Vi avevamo raccontato nei giorni scorsi di un fasano differente rispetto alla passata stagione, vale a dire meno argentino. In realtà la tendenza dei biancazzurri in queste ultime ore è tornata pressoché identica a quella dello scorso anno. L'ultimo arrivo in ordine di tempo è il centrocampista Galo Capomaggio, classe 97 e l'atleta sudamericano a pro dalla corte di Mosca dallo Scalea, società di eccellenza calabrese e arricchisce così la colonia degli albi celesti presenti in rosa, formata già dai difensori Gorzelevski, Callegari e Del Col. La squadra fasanese ha assunto in linea di massima una fisionomia ben precisa, 21 i calciatori già tesserati, un terzo dei quali protagonisti al curlo nello scorso campionato. Un mix di giovani in rampa di lancio, l'ultimo dei quali è l'esterno offensivo classe 2001 ex Virtus Francavilla Antonio Miccoli che dovranno essere trainati da quegli atleti di maggiore esperienza su tutti Corvino e Gomez Forbes. Nel pomeriggio, con fisco di inizio previsto per le ore 17.30, intanto allenamento congiunto di prestigio al Via del Mare di Lecce. Anche lo scorso anno i biancazzurri ebbero l'opportunità di mettersi in mostra contro la truppa giallorossa.